Torna di attualità il tema del distalatore sul fiume Tara dopo i fondi di coesione che arriveranno anche per questo progetto, 70 milioni di euro. Qual è la posizione di Lega Ambiente? Non possiamo che ribadire in merito al progetto di distalatore sul fiume Tara il nostro totale dissenso, lo abbiamo già espresso nelle osservazioni che abbiamo presentato alla Regione Puglia e riteniamo che quel denaro sarebbe meglio speso per provare a recuperare le enormi perdite della rete idrica e per completare progetti che darebbero molta più acqua, sempre progetti dell'Acquedotto Pugliese, quali quelli sul fiume Sarmento e sul fiume Sauro in Basilicata, che se completati garantirebbero un approvigionamento d'acqua di gran lunga superiore a quello del distalatore. Inoltre il nuovo documento dell'ARPA Puglia in merito non fa che confermare le nostre preoccupazioni, cioè il fatto che se tutti i prelievi che gravano su questo piccolo fiume, cioè quello agricolo, quello dell'ILBA e quello del nuovo distalatore che andrebbe ad essere realizzato, se tutti questi prelievi fossero realizzati il fiume probabilmente si azzererebbe. Infine rimane secondo noi una questione assolutamente prioritaria, cioè si affronta un problema che è dovuto ai cambiamenti climatici, perché chiaramente la mancanza d'acqua, la siccità sono uno dei portati del cambiamento climatico, rischiando di aggravare il fenomeno che si vuole affrontare, perché i distalatori sono impianti estremamente energivori, l'energia che andrà ad alimentare questo distalatore, secondo il progetto di Acquedotto Pugliese sarà solo in piccola parte energia da fonti rinnovabili e quindi di fatto si va a produrre CO2, che è la causa principale del cambiamento climatico, per affrontare un problema generato dallo stesso cambiamento climatico. C'è un'altra associazione che si è costituita con il presidente Mario Guadagnolo e poi ci sono varie voci che si sono levate su questo tema, pensate di fare squadra tutti insieme? C'era già un comitato che si era costituito all'epoca in cui si dovevano presentare le osservazioni, infatti noi presentiamo le osservazioni come lega ambiente, poi avevamo relazioni con alcune delle associazioni che facevano parte di questo comitato, tra cui anche il WWF che è aderito a quest'ultima, non so se chiamarla associazione o comitato, questo gruppo di persone e associazioni. Non abbiamo discusso di questa questione, ma è chiaro che più si è meglio è nella battaglia e certamente noi riteniamo che sia un progetto sbagliato e da non realizzare quello del distratore sul fiume Tara. La proposta di posticipare la conferenza di servizi che sarebbe in data 19 dicembre programmata, la ritenete valida per insomma ripensare ai contenuti? Io credo che non siano state date delle risposte concrete alle nostre osservazioni, né tantomeno a quelle dell'ARPA Puglia, perché l'ARPA aveva già presentato delle osservazioni in prima istanza e appunto questo nuovo documento che è stato reso noto da pochi giorni diciamo di fatto reitera o comunque chiede approfondimenti ulteriori. Quindi io credo che allungare i tempi sia utile per maggiori approfondimenti perché insomma si decida che cosa si vuole fare in maniera più ponderata però non possiamo che ribadire, ripeto, la nostra contrarietà a un progetto che ci sembra sbagliato a fronte di tutto quello che è stato detto dall'ARPA prima di tutto ma anche da noi nelle nostre osservazioni.